E' un'opera straordinaria, qualcuno diceva che era l'opera perfetta perché ha un po' tutto ed è l'opera che probabilmente più di tutte parla di noi, parla di noi artisti, di noi musicisti, è estremamente vera, è estremamente reale, ogni volta che la dirigo mi ritrovo in una verità che è quella che ci accompagna tutti i giorni, forse è questo il grande segreto del successo di quest'opera.